Ciao a tutti i lettori di Out of Beat, siamo in compagnia oggi di UmiDigi Ufit, uno smartwatch economico venduto a 46,99€ ma in grado di misurare il battito cardiaco, la pressione e anche l'ossigenazione del sangue. Nella nostra recensione cerchiamo di capire se è uno smartwatch che vale la pena di acquistare o meno. Iniziamo la nostra analisi dal contenuto della confezione che è abbastanza ridotto all'interno della scatola, che comunque è abbastanza curata e ci permette subito di capire che non siamo di fronte all'ennesima cinesata, c'è una dotazione abbastanza basic. C'è un manuale di istruzioni che ci spiega il funzionamento di base dello smartwatch, niente di particolare però torna sicuramente utile soprattutto a chi non è abituato ad utilizzare questa tipologia di prodotti. Un piccolo cartoncino con i QR code per scaricare l'app dedicata e disponibile sia per Android che per iPhone e per seguire UmiDigi sui vari social. E poi c'è un cavo per USB con presa proprietaria per la ricarica. Questa qua è una presa magnetica quindi una volta appoggiata allo smartwatch non si distacca e funziona abbastanza bene. Quindi una dotazione semplice ma più che sufficiente per un prodotto economico. Passiamo a parlare della costruzione del design. Come vedete il design è quello di uno smartwatch dedicato agli sportivi e anche per chi ha un abbigliamento casual. Non si intona perfettamente per chi è solito vestire in maniera elegante. La cassa è realizzata in buoni materiali, plastica per la parte interna, acciaio anodizzato per la parte superiore e per il pulsante laterale. L'acciaio e la plastica sono molto resistenti, l'ho maltrattato veramente in queste due settimane ma non ho avuto problemi di graffi o strisci vari. Quindi il lato costruttivo è molto buono. Sulla parte interna della cassa troviamo i pin per la ricarica, il sensore per il battito cardiaco che viene utilizzato anche per misurare la pressione sanguigna e il sensore dedicato all'ossigenazione nel sangue. Quindi nel complesso la costruzione della cassa è molto buona con un design sportivo. Molto sportivo è anche il cinturino in silicone, ben realizzato, molto comodo da utilizzare. E' un cinturino standard da 20 mm quindi potete sostituirlo a piacimento con un classico cinturino da orologio. Quindi una buona costruzione, altrettanto buono è il comparto hardware. Il comparto hardware per questo dispositivo è abbastanza oscuro, non si conoscono processore RAM e memoria interna, conosciamo però i sensori di cui abbiamo parlato prima. I sensori che funzionano davvero molto bene e che sono in grado di rilevare in maniera precisa pressione sanguigna, ossigenazione del sangue e anche battito cardiaco H24. Quindi ho confrontato i dati con strumenti professionali e devo dire che il margine di errore è davvero basso e i dati ottenuti sono affidabili. Altrettanto buono, abbastanza buono, anzi è il display da 1,3 pollici che ha una buona luminosità massima ed una buona leggibilità sotto il sole. Ha però qualche difettino, non c'è la luminosità automatica quindi potete semplicemente selezionare la luminosità via software fra i settaggi predefiniti. Quindi vi ritroverete tre scelte a disposizione, se la più alta è quella migliore durante il giorno per avere una leggibilità perfetta sotto il sole potrebbe darvi invece qualche problema durante la notte, potrebbe di fatto abbagliarvi. È un problemino insomma non trascurabile però non se ne può fare una critica eccessiva per un prodotto che viene venduto a 46,99€. Lo schermo è personalizzabile ma non troppo, ci sono solamente quattro watch face selezionabili via software. Non è possibile personalizzare le watch face neanche utilizzando l'applicazione. Altro piccolo difettino che spero venga risolto tramite un aggiornamento firmware è il funzionamento della rotazione per accendere lo schermo. Funziona perfettamente, il problema è che non è possibile impostare una fascia oraria di funzionamento. Quindi vi ritroverete di notte quando vi girate a letto con il display che si accende in maniera automatica. È una cosa abbastanza fastidiosa se avete il sonno molto leggero però per molti e per alcuni potrebbe anche essere un difetto trascurabile. Parliamo ora del software che è forse il punto più negativo dello smartwatch. La grafica è abbastanza spartana e ci sarebbe potuto fare qualcosa di meglio. Di fatto ricorda molto un Mi Digi Watch che ho provato ormai un paio di anni fa e non ci sono stati grandi evoluzioni in merito. L'interfaccia grafica è abbastanza spartana ma ci permette di accedere a tutte quelle che sono le funzionalità dell'orologio. ci permette di attivare le sessioni sportive che vediamo dopo, misurare il tasso, il battito cardiaco, l'ossigenazione, la pressione del sangue, di utilizzare la funzione relax per godere di qualche momento di relax durante la giornata, di impostare timer e sveglie, di gestire la musica e poi di andare a gestire l'interfaccia grafica, la watch face, andando a selezionare una di quelle preimpostate sullo smartwatch, ce ne sono solo 4, anche qui speravo in qualcosa di meglio e poi possiamo selezionare la luminosità come abbiamo visto prima. Dalla schermata principale è anche possibile accedere ai toggle che ci permettono di attivare o meno il cardiofrequenzimetro H24, la rotazione per l'accensione del display, la modalità non disturbare e la modalità trova telefono, invece nella parte bassa della schermata centrale è possibile andare ad analizzare i dati raccolti nel corso della giornata e quelli della settimana. Sempre dalla home è possibile facendo uno swipe in alto accedere alle notifiche, in questo momento non ne ho, ma tramite l'app Verifit Pro è possibile selezionare quali notifiche a ricevere sullo smartwatch. Le notifiche funzionano benone, insomma si possono solamente leggere, però sicuramente tornano molto molto utili. L'app non ve la mostro neanche, di fatto è semplicemente un riepilogo dei dati e non permette neanche di avere funzionalità maggiori di quelle da cui potete accedere direttamente dal vostro polso. L'ultimo aspetto da analizzare prima del prezzo è quello della batteria, all'interno c'è una batteria di cui non si conosce la capacità, quindi ci basiamo semplicemente sull'autonomia che sono riuscito a testare in queste settimane di utilizzo. Con poche notifiche attive sono riuscito tranquillamente a colpire 14 giorni completi di utilizzo. Con più notifiche attive si arriva tranquillamente alla decina di giorni, che quindi è un'autonomia molto buona. La ricarica avviene tramite la basetta proprietaria che vi ho mostrato all'inizio della recensione ed impiega circa un paio di ore per una ricarica completa. Umedigi Ufit viene venduto a 46,99€, un rapporto qualità-prezzo che direi ok. Quindi prima di passare alle conclusioni vediamo di capire cosa manca a questo prodotto. Mancano principalmente le funzioni software, manca qualche modalità sportiva, ad esempio nonostante sia il P68 resistente all'immersione fino a 5 atmosfere non è possibile tracciare nuoto, manca un GPS ma visto il prezzo di vendita è naturale aspettarsi questa mancanza e mancano principalmente le possibilità di personalizzazione sia dal polso che via app. Mi sarei assolutamente aspettato qualcosa di meglio visto poi anche il buon lavoro di Umedigi fatto con altri smartwatch e anche con gli smartphone. Andando a concludere cerchiamo di capire perché potreste essere interessati ad acquistare Umedigi Ufit. È un prodotto economico perché 46,99€ è un prezzo onesto, ha una buona qualità costruttiva, la scocca è realizzata in acciaio e plastica quindi è un buon prodotto, ha un display superiore alla media e questo vuol dire che il display nonostante sia da 1,3 pollici ha una buona luminosità ed è migliore rispetto a quello dei concorrenti. In questo periodo ne ho provati davvero tanti di prodotti economici e questo di Ufit è davvero un buono schermo. E ultimo punto positivo sono i tanti dati raccolti, la pressione del sangue, il cardiofrequenzimetro e l'ossigenazione non sono dati raccolti da tutti gli smartwatch anche da quelli di fascia superiore. Quindi nel complesso uno smartwatch buono, economico e che può essere utile per chi cerca delle funzioni di base e vuole ricevere qualche notifica e tener traccia di una grande serie di dati direttamente sul proprio polso. Vi lascio in descrizione la nostra selezione dei migliori smartwatch e anche dei migliori fitness tracker così potete dare un occhio a quanto offre il mercato oggi. Se il video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di iscrivervi qui sotto al nostro canale, di attivare anche il campanellino per le notifiche, di mettere un mi piace sul video e anche se vi va di seguirci sui nostri canali social. In descrizione vi lascio tutti i link e anche i link ai nostri canali telegram per le offerte e gli sconti sia su prodotti tecnologici che sugli elettrodomestici. Da Vittorio Attiso per Out of Bid è tutto, vi ringrazio per aver visto il video e alla prossima!